Ehi benvenuti un'altra volta su Glicerod, bentrovati in Beholder Allora, siamo ad aspettare il nostro figlio perché è uscito, credo siamo andati all'università e dobbiamo dargli i libri e sarebbe il caso, nel frattempo stiamo anche aspettando la telefonata della ragazza per il nostro cardiochirurgo che ora non mi ricordo come si chiama, adesso ve lo dico, come si chiama, uscite, usci, usci il nome Aloysius Pack, è vero, Aloysius, Aloysius, e intanto è arrivata la telefonata, perfetto, andiamo probabilmente riusciremo a trovare una donna per Aloysius, prendere la telefonata, accettare la telefonata privata Ciao Carlo, è Clara, sono Clara, mi hai chiamato un paio d'ore fa, sono d'accordo sul conoscere il dottore dagli il mio numero e la parola d'ordine che esco Sì, ho scritto tutto, fragole con la crema, dai, andiamo, velocemente parla della sua solitudine con chiunque, va bene, con chiunque, la ragazza dell'avviso e via, ok, perfetto quindi adesso si va a preparare, devo mica dargli, fatemi vedere se devo dargli qualcosa intanto è arrivato mio figlio, perfetto, bisogna dargli la cioccolata hai portato la cioccolata? L'avevo comprata prima perché me la ricordo, quindi sei pronto per andare figliolo buongiorno, ho il tuo libro sì padre, ho i tuoi libri prego 350, ciò vuol dire che ci possiamo comprare un altro paio un altro paio? Sì, un altro paio di, eh, di, 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 come si chiamano? di telecamere che andremo a mettere Aloisius è andato quindi possiamo riempire la casa di Aloisius di roba andiamo ci vorrà un po' intanto casa di Aloisius uno intanto il 4 settembre due qua cos'è che devo fare il profilo di Klaus non ho più direi che ne ho abbastanza dovrò farne ancora non credo possiamo andarcene in più shimmer è arrivato quindi non posso fare in tempo a leggere porca miseria volevo, potevo andare a vedere cosa ci aveva nel ciao Klaus mannaia il nostro è arrivato anche il nostro marinaio quindi non posso fare una mazza qua ho già messo tutto si ho già messo tutto ah c'è una famiglia a disposizione? oh moving no no scherzavo credo che fosse ci fosse qualcosa scritto di strano eh vediamo un po' cos'altro possiamo fare io direi che può bastare tutto quello che ho posso fare il profilo fare simpatico il profilo di Klaus per farmi dire che deve andare fuori dai piedi se non sbaglio eh ok profilo più roba c'è ovviamente meglio è è Klaus shimmer intanto apriamo questo appartamento numero eh numero uno ok appartamento numero uno maschio sposato con maria shimmer occupazione spende tabacco e via fumo gioca a scacchi sconoscitore di vino prende foto e questo cos'è? ah gli piace il modellismo ok 875 dollari direi che va bene non è va bene non è mandiamoli tutto perfetto eh leave work leave workplace adesso tra poco dovrebbe arrivare ah oppure devo chiamarlo devo chiamarli? devo chiamarli già? dial the number report the task ministri devo dirglielo sì ok eh devi sfruttare Klaus shimmer eh e la moglie ce ne frega niente fai quello che devi va bene faccio quello che devo ma non sarà sfruttarlo subito anzi eh ci busso e ce lo dico perché sono una brava persona vieni Klaus con calma lo so che sei una persona anziana però non metterci così tanto intanto è arrivato quell'uomo salve cosa hai bisogno? eh sì ho ricevuto un qualcosa sì sì ho ricevuto l'ho ricevuto devi stare molto attento non va bene non è possibile i miei problemi non dovrebbero preoccuparti grazie per l'avviso cosa farai? no ti do una mano non ti preoccupare cosa hai bisogno? di cosa hai bisogno? hai bisogno? vabbè mi dice che che cosa che vita che vita hai bisogno del certificato d'assenza e vabbè cos'è ma lo sappiamo e come lo prendo non si ha idea ma noi abbiamo un archivista perché il certificato di assenza è all'archivio e abbiamo bisogno proprio di un archivista e l'archivista ad esempio ce l'abbiamo perché non riesco a premere sul pavimento ok e l'archivio ce l'ha l'archivista ce l'ha l'archivista e noi andiamo adesso a bussare sperando che arrivi il runec giusto non arriva nessuno runec va bene nel frattempo parliamo com'è andata? è andata bene molto bene potrei portarla a vivere qua con me? sì va bene portala runec dicevo può venire marito runec possibilmente grazie sì viene il marito runec per una volta è uscito fuori il membro giusto della famiglia gli altri dormono non c'è problema è arrivata anche la moglie va bene opla salve cosa vuoi dall'archivista? hai perso gli occhiali? va bene ma se ho degli occhiali scusa un attimo se ho degli occhiali nel senso ce li ho no hanno hanno ah ok hanno lo scotch sul pezzo per tenerlo sul sugli occhiali sulle orecchie e invece la montatura è marrone va bene d'accordo cosa vuoi dall'archivista? vorrei un attimo un amaro da shimmer non ce n'ha non ne ha bisogno l'odia non gli piace e gli dico la verità su Klaus che cosa è successo finora non mi piace mi devi dare dell'alcol se non mi ricordo male marca miseria dov'è? tieni la bottiglia io avevo una bottiglia ok andrò a prendere i fogli quanto prima perfetto poi 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 allora il nostro simpatico marinaio sta dormendo c'è? non c'è? si c'è adesso tra un po' se ne esce nel frattempo parliamo con Anna con la nostra mugiera vediamo un po' cosa ci dice cioccolato ah ho parlato con i vicini sono molto carini potremmo comprare qualcosa dal trader come non è abbastanza cose ah non mi ascolti mai quello che ho da dire vabbè non ti arrabbiare ah sei il maestro a far deprimere le persone vabbè stai zitta non perché sei moglie perché stai rompendo le scatole in quanto fossi anche un uomo staresti rompendo le scatole la donna al secondo piano mi ha fatto vedere del sapone perfetto hai bisogno del sapone? ho un sacco un'intera scatola di sapone di carbone per per no 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 addirittura una corda sotto lungo il tuo collo ti servirebbe vabbè e poi e poi come facciamo? come fai con i figli? compra caramelle per Marta va bene compriamo caramelle per Marta vieni Nemo lo so che c'hai ancora una cosa però vado a prendere caramelle cosa almeno una cosa ce la siamo tolta chocolate candy chocolate candy chocolate candy questo chocolate candy preso ok perfetto è andato via il marinaio non ci ho fatto caso o è ancora in casa? non ci ho fatto caso uffa va bene sì caro ho comprato le caramelle grazie poi cos'altro? qual è il problema? cos'è? Marta non sta bene è arrivato il momento in cui c'è bisogno di curare Marta perché non sta bene bisogna andare a comprare le aspirine l'aspirine ce l'ha il trader salve aspirine 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 qua porca misera 465 mortacci salve salve Clara questa è la futura moglie di Aloisius la moglie è scomparsa dove diavolo è finita? va bene nel frattempo se la moglie l'ho vista però nel frattempo voglio vedere c'è mica al marinaio è sotto ok potremmo entrare no no non bussare non dovevi bussare porca vacca dovevi entrare basta shhh metti velocemente telecamere a tutto spiano lo sto guardando lo sto controllando è lì sotto si però così non lo controllo più così si ok seconda telecamera terza telecamera ho finito le telecamere porca vacca ok quarta telecamera dov'è il marinaio? sta arrivando? sta arrivando mi sa che sta arrivando usciamo velocemente va meglio va poi dicevamo Ranex sta arrivando adesso perfetto quindi parlo un attimo con Anna Stein con mia moglie per dirgli che ho le medicine ho preso le medicine in un paio di giorni scopriremo come sta e il marinaio se ne va? fantastico posso ancora di nuovo entrare allora andiamo a cercare cosa c'è in giro vino? vino non è alcolici non sono no me li ricordavo proibiti sì sì lo so mio figlio mi vuole parlare ma ora sono impegnato gioca d'azzardo gli piace giocare d'azzardo poi orologio musica straniera tra l'altro non si dovrebbe poi in futuro in futuro non dovrebbe poi più avere musica straniera sta a vedere che adesso è uscito monete antiche di varie forme misure contempla anche roba anche roba straniera quindi non dovrebbe è proibito è proibito ho sbagliato ho rifatto la stessa cosa ok andiamo a vedere ancora sedia è arrivato il marinaio non è ancora arrivato il marinaio ok perfetto jeans fra un po' porca miseria è tutta roba proibita ma per il momento non lo è e quindi non posso bottiglie il letto dire che sta arrivando room alla faccia è arrivato il marinaio bottiglia rotta si ce la possiamo fare ancora è l'ultimo porca miseria è pieno di roba che non bisognerebbe ma che non è ancora il momento di gli occhiali qua non ce l'ha mi avevano detto che gli occhiali ce li aveva lui ma in realtà o meno che non abbiamo ancora sbloccato la quest di Raneck che ci dice abbiamo perso gli occhiali andiamo a parlare con Mark Raneck velocemente ho trovato ah no hai trovato gli occhiali no non ho trovato gli occhiali e no bisogna parlare con Marta per saperli per saperlo aiutiamo o mi aiuti trovate perfetto ottimo mi ha dato il la fuffa qui cosa c'è ah qua c'è Clara ciao Clara benvenuta troviamo un sacco di chiamate almeno 40 la faccia è un candidato molto promettente vabbè no ho sbagliato ho ricliccato cosa vorresti eh basta sarebbe abbastanza una mottiglia di qualcosa di molto forte ok conosco un posto dove trovarla senza doverla comprare si padre eh chiedo degli occhiali tu non sai niente però sa mia figlia lo so e cos'altro learn what happened ok perfetto bisogna di parlarti padre di che cosa ho incontrato una brava ragazza e gli ho chiesto di uscire la nostra la prima nottata delle luci della speranza sarà in due un paio di giorni e vengono anche attori della capitale e come chi è quest'altra ragazza Andrea Golcic è molto bella intelligente gli piace andare al teatro e c'è l'opening night e questa è la mia occasione padre non ho abbastanza soldi per i biglietti 550 dollari sono tanti vabbè gli ridiamo perché ne abbiamo 2115 va bene e 20 dollari per i fiori crepi la varizia non ti per dimenticare di lavarti perché se no è un problema tu dove vai te ne vai no potevo impettarti in gattabuia facile adesso è illegale vendere jeans maledizione ora ora non mi dire che Clara beve salve addio addio Jones il problema è che non mi dire che quando se ne vanno bisogna togliere tutte le cose devi rimetterle da capo no ti prego non ce la posso fare non c'è nessuno che voglia venire a vivere in questa meravigliosa casupola nessuno vuole muoversi nel mio palazzo vabbè allora ci dobbiamo concentrare su Raneck direi abbiamo i libri gli ho dati gli ho devo dare ancora Shimmer ok allora Shimmer sei in casa c'è solo Maria il marito vabbè facciamo così intanto bussiamo vediamo cosa succede eccolo eccolo che arriva Klaus musica prima musica rilassante poi roba da ciao roba da 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 documenti ce l'hai grande è il tuo certificato d'assenza incredibile guarda nessuno ti impedirà di uscire veramente non è vero perché siamo stati messi nella lista nera per comprare biglietti anche del treno come facciamo faremoci ci penso io stai tranzollissimo e parliamo un po' con Anna magari Anna ne sa qualcosa no sta leggendo favole no sta leggendo il suo giornale e non vuole essere disturbata non è che c'hai dei biglietti del treno a te così per sapere magari sì ah non credo vero no 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 non c'hai niente io non posso più recuperare l'alcol da devo rubargli e basta mannaggia sono troppo buono è un peccato è un peccato va bene ah c'è posta per me c'è posta per me prossima volta che arriva che arriva qualcuno gli devo ciulare la roba perché se no allora ah nella prima questo è quello che è successo a teatro nella prima di love and peace di pace e amore c'è stato uno scandalo e un un membro del governo ha lanciato ha lanciato roba perché è troppo era roba troppo leggera non ha niente a che fare con la realtà mentre il come si chiamano il membro la voce della verità cioè i reazionari i reazionari ah questo 274536 è il numero di telefono dei reazionari tanto parliamo con Klaus poi diamogli una telefonata ma allora chiediamogli cosa ha bisogno no non dovevo parlare con te chi è che è Anna no sei in mezzo parlare con con mia moglie ok si è rotta la tv non è un problema non è un problema così si fa allora è rotta compra kit da elettra elettrauto elettra elettricista magari ecco ok ripariamo risolto second teta Donna si la vedo che fai salti di gioia e cosa hai da chiedermi da dirmi ancora cosa è successo Marta non sta bene sta molto peggio c'è bisogno di un dottore gli ha detto di lavare il naso col sapone da piatti quindi non è un gran dottore quindi bisogna trovare un dottore vero ma non c'è problema ce l'abbiamo un dottore vero si chiama Aloisius dove diavolo è però ma Klaus ah eccolo qua Aloisius ciao Aloisius giusto di te avevo bisogno mi potresti curare la bambina grazie molto gentile vai a curare la bambina poi cos'altro ah devo chiamare devo chiamare quel numero confermi di completare il gioco eh non lo so sì in che senso non lo so non capisco dico di sì tanto poi è salvato visto che ho fatto velocemente poco tempo fa una quest direi che ho salvato quindi al massimo vediamo ricominciamo da dove eravamo facciamo come se non avessi mai chiamato questo numero dico sì tanto comunque ci dobbiamo salutare quindi vediamo cosa succede sì tutti hanno fatto quello che possono ma nessuno ha fatto quello che dovrebbe gli effetti della droga che toglie il sonno dati a Carlo durante il check up medico sono stati catastrofici e a un certo punto è andato in coma il suo cervello gira senza meta cercando di uscire dal mondo immaginario dove Karl è stato incaricato con un è stato dato gli è stato dato un incarico molto noioso cercare il centro dell'universo l'ha trovato molte l'ha trovato molte volte ma ogni volta conteneva niente niente Karl non non ho capito perché quel numero mi ha mandato nella mi ha mandato in coma è il numero della era il numero della resistenza perché era dietro il volantino della resistenza sono tanto confuso sono tanto tanto confuso comunque direi che se schiaccio continue game dovrei essere all'ultimo save prima di chiamare se non sbaglio vediamo un po' se no cerco di riportarmi in questa situazione in qualche modo con qualche save lo vediamo subito mentre ci salutiamo mentre tra poco ci saluteremo si direi di si ci siamo no? sono al pelo devo fare il telefono il dottore per Marta ok il numero di telefono credo di poterlo chiamare esattamente ok devo solo parlare col dottore devo parlare col dottore e basta ok perfetto perfetto firmware che cos'è? devo aiutare Shimmer ad uscire ok perfetto quindi non ho capito ho capito qualcuno mi dà una mano per capire e quindi non è finita non è finita quindi continueremo a questo punto è soltanto è stata un finale secondario diciamo e se mai se io cerco qualche informazione più magari ve lo dico alla prossima puntata cosa è successo in realtà se non l'avete capito neanche voi comunque se vi è piaciuto il video cliccate mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi condividete con persone che voi può interessare questo genere di cose è molto molto importante ci aiuta e mi aiuta a avere anche più tempo per fare queste cose e detto questo è veramente tutto noi ci vediamo la prossima puntata qui con Beholder va bene tata e la prossima puntata